Il teatro nasce come rituale collettivo che svela il rapporto fra gli uomini e gli dèi. Il gesto sacro diventa poi poco alla volta il gesto dell'attore. Perciò un teatro che oggi prende la forma esplicita del rito può accendere nello spettatore suggestioni inconsuete. Domenica pomeriggio a Officina Teatro nel quartiere casertano di San Leucio Alessandra Asuni evocherà l'esperienza del parto come rituale sacro e misterioso nel lavoro Matrici, concepito a quattro mani con Marina Rippa. Sabato e domenica al Teatro Area Nord di Piscinola sarà in scena l'insolita lezione del professor Otti scritto e diretto da Massimo Maraviglia uno spettacolo poetico e delicato sulla potenza rigeneratrice degli affetti. Alla sala Assoli nei quartieri spagnoli venerdì e sabato l'associazione Jeux de Dame presenta la feroce storia di Caina una scrittura di Davide Morganti che esplora le derive dell'odio e dell'aberrazione in un potente crescendo drammaturgico. E infine al piccolo Bellini gli imprenditori di sogni mettono in scena La Cantatrice e Calva rivisitazione pop parodica dell'opera di Ionesco elaborata da Ciro Pellegrino per raccontare l'alienazione quotidiana attraverso parrucche, travestimenti e coreografie postmoderne.